Nuovo evento sportivo organizzato dalla Podistica di San Salvo, evento che ci sarà quest'anno per due giorni consecutivi, il 7 e l'8 di maggio. Nel programma, in dettaglio, entra Pasqualino Onofrillo che è al mio fianco. Sì, grazie Orazio, innanzitutto grazie per l'ospedalità che ogni volta ci riservi alla Podistica San Salvo, che organizza, come detto adesso Orazio, il 7 e l'8 maggio questi due giorni dedicati ai ragazzi, ai ragazzi in età adolescenziale, è proprio il titolo del dibattito che si terrà venerdì sera alle 18 presso la sala conferenza della BCC. Abbiamo dei redattori di tutto prestigio, oltre al presidente della banca di credito cooperativo Nicola Valentini e a Franco Longoni dell'Avis di San Salvo, che sono i due partner che insieme alla Podistica di San Salvo organizzano l'evento. Avremo il presidente della Podistica di San Salvo, Michele Coronarino, qua al mio fianco e Luigi Brindisi, tecnico fila della Podistica di San Salvo. In più avremo la presenza del dottor Romano Bolognese, specialista in medicina dello sport, Mario D'Angelo, noto imprenditore locale, lo stesso qua di San Salvo, che verrà a dirci la sua sull'argomento. Abbiamo anche un altro tecnico federale che è Mario De Benedictis, un allenatore di Pescara. Tutti quanti intorno a un tavolo per parlare del valore dello sport in età adolescenziale. Ovviamente l'ho lasciato per ultimo la testimonia della manifestazione, che Sara Simeoni, che abbiamo avuto la fortuna di averla come ospite, sia in occasione di questo convegno che la mattina successiva, dove da dietro a un tavolino passiamo proprio sulla pista di atletica, dove i ragazzi delle scuole medie, oltre che di San Salvo e Vasto, ma di tutti i paesi, gli altri 14 paesi della vallata del Trigno, si cimenteranno in una gara di velocità divisa per sesso e per età. Quindi abbiamo ragazzi di prima, seconda e terza media, maschile e femminile, che si affronteranno in questa competizione sulla pista di atletica di San Salvo, in via Ripalta. Uno delle persone che più ci tengo a presentare per questa conferenza è sicuramente il presidente della Podistica San Salvo, che sicuramente dovrà dirci due parole per la Podistica San Salvo, che sicuramente è cresciuta come numero, quindi numericamente siamo diventati un gruppo veramente numeroso, ma con questo tipo di evento vorremmo, almeno questa è la nostra aspirazione, crescere anche qualitativamente, quindi cercando di portare un po' di qualità, oltre che di quantità, all'interno di questo gruppo sportivo. Quindi lascio la parola al presidente, il quale ci illustra un po' sia le ambizioni che la situazione attuale della Podistica San Salvo. Grazie Pasqualino, io prima di tutto vorrei ringraziare la redazione di San Salvo Mare per averci ospitato nei loro studi. E che dire, la nostra società, che mi onoro di presidere, penso che non ha più bisogno di essere pubblicizzata, ormai siamo diventati una delle società capofile del territorio, una delle società più importanti di San Salvo, società sportive più importanti di San Salvo. Questo grazie all'impegno di tutti i tesserati, l'impegno del direttivo che sta lavorando benissimo. Stiamo diventando, come ho detto prima, una delle società più numerose, società sportive più numerose di San Salvo. I nostri atleti non si limitano soltanto a partecipare a gare di 10 km e mezzo maratone, ma partecipiamo numerosissimi alle maratone, maratone più importanti d'Italia. Abbiamo tra i nostri tesserati Maria Brindisi, che lo scorso mese di marzo nella Maratona di Roma si è classificata prima di categoria su 15.000 iscritti. non è poco, siamo stati a Roma in 52 atleti arrivati e siamo una delle società abruzzise che partecipa numerose alle maratone. Qualche settimana fa abbiamo avuto una sorpresa gratissima, ci è venuto a trovare il presidente della FIDA all'Abruzzo, Domenico Narcisi, per complimentarsi con la nostra società per tutto quello che stiamo facendo e tutto quello che faremo in futuro. A punto del futuro, caro presidente, abbiamo parlato di Maria Brindisi, che è bravissima, abbiamo parlato dei maratoneti, poi abbiamo parlato tutti di persone, posso dirlo perché faccio parte di questa, di una certa età. Per i giovani invece cosa stiamo facendo? Per i giovani ci stiamo facendo tanto, ci stiamo rimettendo sotto per organizzare la scuola di atletica, che tra un po' ci spiegherà meglio il nostro tecnico FIDA Luigi Brindisi. Già abbiamo fatto questa scuola di atletica due anni fa, quest'anno la riprenderemo nel mese di settembre. Volevo ritornare al nostro gruppo, siamo arrivati a quota 80 iscritti, quindi l'obiettivo dei 100 iscritti non è lontano. Credo che dentro quest'anno arriveremo a 100 iscritti. Volevo ricordare che chi vuole iscriversi alla Bodistica San Salvo può rivolgersi al sottoscritto, visitando il nostro sito internet www.bodistica.san salvo può scaricarsi il modulo per iscriversi. Anche quest'anno ai ragazzi fino a 15 anni l'iscrizione è gratuita, gli verrà data un kit per correre e anche alle donne non pagheranno l'iscrizione. Anche quest'anno verrà riorganizzata la gara a luglio, il 3 luglio, il sesto trofeo Città di San Salvo. Quest'anno l'abbiamo anticipato a sabato per dare la possibilità a tutti gli atleti provenienti da fuori regione per restare fino a tarda serata, alle premiazioni, con tranquillità, non avere la fretta di ripartire. Bene, allora invece per quanto riguarda l'attività più specifico, quest'anno abbiamo la fortuna di la Bodistica San Salvo di avere un allenatore che si è appena finito i suoi studi, possiamo dire così, quindi metterà, speriamo a breve, diciamo dopo l'estate, in campo tutti i suoi tre anni di corso, di preparazione, proprio a servizio di tutti quei ragazzi che vorranno avvicinarsi a questo sport. E in definitiva quello che noi andremo a organizzare proprio il 7 e l'8 maggio è proprio un modo per cercare di attirare questi ragazzi. Ovviamente abbiamo scelto forse quello che istintivamente è la gara più immediata che un ragazzo può percepire, cioè quella è la gara veloce, perché non occorre ovviamente grande preparazione, grande fatica, ma diventa una cosa abbastanza istintiva per i ragazzi. Questo è il mio parere. Ovviamente adesso sentiamo il parere di Luigi Brindisi, tecnico che lui ci auguriamo che al meglio potrà curare, speriamo questi 5, 8, 10, 15, 20 ragazzi che dopo l'estate possano venire alla nostra pista d'atletica a cercare di arrivare a 100 iscritti per la polistica Sanzalo, così il presidente è veramente contento, ma soprattutto dare questa linfa nuova che possa dare continuità nel futuro della polistica Sanzalo. Come diceva Pasqualino, questo sicuramente è il nostro obiettivo primario, il nostro obiettivo siamo cresciuti come gruppo, come diceva Michele, adesso dobbiamo crescere nel settore giovanile, anche perché abbiamo la fortuna di avere una pista come pochi in Abruzzo, che quindi va sfruttata e sviluppata proprio per cercare di far crescere il settore giovanile che nella pista trova la sua natura, il suo sfogo naturale. Per quanto riguarda la manifestazione, questo è il terzo anno che la organizziamo Ragazzi in Corsa. Questa manifestazione è nata il primo anno quasi come un completamento del corso di avviamento dell'atletica leggera che abbiamo iniziato a proporre attraverso il professor Domenico D'Adamo. Dopodiché, per motivi così contingenti, suoi, di altri impegni, abbiamo tralasciato questo corso di formazione. Continuando però in questa manifestazione, che comunque è una manifestazione molto positiva, che comunque è sempre una forma di aggregazione e di spinta verso l'attività fisica dei ragazzi. Quest'anno, come diceva Pasqualino e come diceva il Presidente, riproporremmo all'inizio dell'anno scolastico questo corso di atletica, sperando così di iniziare un discorso che secondo me è maturo nella nostra politica. Quindi un discorso che ci permetterebbe, con i giorni, che ci permetterebbe di fare quel salto di qualità, passare quindi da un podismo un po' più amatoriale a un podismo legato anche non solo al futuro, ma anche a livello agonistico, a attività su pista, quindi a risultati, speriamo,